Mi chiamo Gaia, ho 17 anni, vengo da Roma, studio fotografia e amo la lettura, leggere e se c'è una cosa che odio sono le persone che prendono decisioni al posto mio. Gira tutto intorno a un fattore di insicurezza per quanto riguarda la violenza, la voglia di potersi esprimere ma la paura di farlo e anche un problema di superficialità, di non voler rimpegnarsi nel capire l'altro. La scuola per prevenire la violenza dovrebbe far sì che si attuino dei corsi soprattutto per i professori per la sensibilizzazione dei disturbi mentali e della comunicazione con lo studente e per quanto riguarda noi studenti vogliamo dei corsi che ci permettano di studiare sia da un punto scientifico ma anche da un punto relazionale l'orientamento sessuale, la sessualità e la scoperta di genere. Grazie 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 Grazie